hai deciso dove andrai a stare ma non lo so e neanche mi importa per ora sto in una pensioncina poi si vedrà giorgio e daniele se ne vanno ma tu stai tremando sei gelata se ho freddo ma tanto ora devo andare non stiamo insieme? no, meglio di no è successo qualcosa? no, niente ho la chiave del mio capanno vieni in fondo sarebbe una soluzione venire a dormire qui un po' piccina come a casa a me sei bella io ti desidero talmente non sapete che è proibito circolare sulla spiaggia dopo il tramonto? no, non lo sapevamo ah, e che c'è la guerra lo sapete abbassi quella luce documenti? si, subito no, questo documenti militari ah, si fatemi luce qui bene il vostro foglio militare è scaduto come la mettiamo? non è possibile, me l'hanno rinnovato a Roma dico, giovanotto, ce ne intenderemo noi di questi pasticci, no? stiamo a prendersi in giro? no, ha ragione ma dovevo ripresentarmi il 30 a Bologna solo dopo quello che è successo che cosa è successo? è finita la guerra? so andiamo al comando voi potete andare non potrei accompagnare la signora la vostra carta d'identità ecco e domani mattinata a Bologna intesi? grazie e cerchiamo di essere precisi c'è poco da scherzare grazie a tutti